Nella luce morente del XVIII secolo, una figura di ambizione smisurata e di eredità controversa si è scolpita un nome negli annali della storia. Napoleone Bonaparte. Nato il 15 agosto 1769, in Corsica, questo genio militare e sovrano della Francia avrebbe gettato una lunga, oscura ombra sull'Europa, segnata da conquiste, tirannia e spargimenti di sangue. La campagna di Napoleone in Egitto, iniziata nel 1798, dispiegò non solo le bandiere della guerra, ma anche una scia di distruzione e saccheggio culturale. La battaglia delle piramidi. Il 21 luglio 1798 non solo schiacciò le forze mamelucche, ma lasciò anche una profonda cicatrice sulla popolazione egiziana. Il massacro di Jaffa nel 1799 fu un evento orribile, dove l'esercito francese, sotto il diretto comando di Napoleone, giustiziò oltre 2000 prigionieri di guerra che si erano arresi a sangue freddo. Questo massacro resta una macchia oscura sulle sabbie di Jaffa, segnandola per sempre con l'inchiostro indelebile dell'atrocità. Volgendosi verso la Spagna, la guerra della penisola, dal 1800-7 al 1814, rivela un altro capitolo di brutalità. Il famigerato sollevamento del Dos de Mayo a Madrid, seguito dalle spaventose esecuzioni il giorno successivo, incarna la repressione spietata sotto il dominio di Napoleone. Città come Saragozza e Valencia furono testimoni del bombardamento incessante e delle sofferenze indicibili dei civili. Il famoso dipinto Il 3 di maggio 1808 di Francisco Goya cattura un singolo, gelido momento di questo orrore, immortalando la cruda brutalità e la resilienza di coloro che affrontarono le dure realtà nella guerra della penisola. Ma l'oscurità del regno di Napoleone non era confinata ai campi di battaglia. Il suo codice Napoleone, rivoluzionario sotto alcuni aspetti, era profondamente carente sotto altri, specialmente riguardo ai diritti delle donne, dove riaffermava l'autorità patriarcale, riducendo le donne a semplici soggetti sotto il controllo dei loro mariti. Napoleone stesso una volta dichiarò «Il campo di battaglia è una scena di caos costante. Il vincitore sarà colui che controlla quel caos, sia il proprio che quello del nemico». Questa inquietante intuizione nella sua mente strategica rivela il freddo calcolo della guerra che definì il suo regno. Possiamo comprendere la profondità della disperazione provata da coloro che giacevano nell'ombra di una figura così colossale. Possiamo sentire le suppliche silenziose dei molti che furono calpestati sotto la marcia di un ego che non conosceva limiti. Preparatevi a intraprendere un viaggio nel cuore di un paradosso, dove illuminismo e tirannia camminavano mano nella mano. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. Napoleone Bonaparte, l'anticonformista rivoluzionario. Nel caotico periodo successivo alla Rivoluzione francese, un periodo segnato da radicali sconvolgimenti sociali e politici, a partire dal 1789, Napoleone Bonaparte, un giovane ufficiale d'artiglieria di umili origini corse, emerse come una figura fondamentale. La sua ascesa dall'oscurità relativa alle vette del potere imperiale è una narrazione colma di astuzia, opportunità e l'exploitation strategica di una nazione in mutamento. La disintegrazione della vecchia monarchia, a seguito della Rivoluzione, lasciò un vuoto di potere. In questo ambiente, Napoleone, nato il 15 agosto 1769 ad Aiaccio, in Corsica, si distinse per la prima volta. Nel 1793, durante l'assedio di Tolone, una battaglia cruciale in cui le forze rivoluzionarie francesi affrontarono una significativa ribellione realista, aiutata dai britannici, il 24enne Napoleone giocò un ruolo critico. Il suo posizionamento strategico dell'artiglieria portò alla riconquista della città e alla promozione a generale di brigata. Questo fu solo l'inizio della sua illustre carriera militare. Entro il 1795, il direttorio, il nuovo organo di governo della Francia, era minacciato dalle forze realiste. Il 13 Vendemier, 5 ottobre, Napoleone, comandando la difesa, represse rapidamente l'insurrezione a Parigi. Il suo uso di fuoco di cannoni, che portò alla famosa frase «un soffio di mitraglia», non solo disperse la folla, ma sigillò anche il suo futuro politico. Questo evento fu fondamentale, guadagnandogli sia il riconoscimento che il cruciale patrocinio di Paul Barras, un influente politico. L'ascesa di Napoleone fu tanto un prodotto del suo acume politico quanto della sua abilità militare. Nel 1796 sposò Josephine de Beauharnais, una vedova con significative connessioni sociali, migliorando la sua rete politica. Quell'anno prese il comando dell'Armata d'Italia. Attraverso una serie di manovre audaci contro gilli austriaci, culminate nel Trattato di Campoformio il 17 ottobre 1797, assicurò significativi guadagni territoriali per la Francia e un afflusso di risorse. Le sue campagne italiane sono note per i loro movimenti rapidi e strategie innovative, alterando fondamentalmente l'arte della guerra. Dopo i suoi trionfi in Italia, Napoleone tornò a Parigi, dove fu accolto come eroe. Tuttavia, trovò un governo impantanato nell'inefficacia. Percependo l'opportunità in mezzo all'instabilità politica, Napoleone, insieme a suo fratello Luciano Bonaparte e ad altri, avviò il colpo di Stato del 18 Brumaio il 9 novembre 1799. Questo evento smantellò effettivamente il direttorio, portando alla formazione del consolato, con Napoleone come primo console, un ruolo che lo rese il leader de facto della Francia. Napoleone si mosse rapidamente per consolidare il suo potere. Il codice napoleonico, promulgato nel 1804, riformò il sistema legale, incarnando i principi dell'illuminismo, mentre centralizzava l'autorità nello Stato. Le sue riforme amministrative, come l'istituzione della Banca di Francia nel 1800 e il concordato con il Papa nel 1801, stabilizzarono l'economia e si riconciliarono con la Chiesa Cattolica. Queste misure, pur aumentando il suo controllo, guadagnarono anche un ampio sostegno attraverso vari strati sociali. Entro il 1802, la posizione di Napoleone era così sicura che fu nominato console a vita e entro il 2 dicembre 1804 si incoronò imperatore nella cattedrale di Notre-Dame, una mossa che simbolizzava il suo completo controllo sulla Francia. Questa cerimonia, alla quale partecipò il Papa Pio VII, fu una sapiente fusione di retorica rivoluzionaria e pompa monarchica, illustrando il marchio unico di leadership di Napoleone. Echi della Ghigliottina, il dominio di Napoleone modellato dal Regno del Terrore. Il Regno del Terrore, un periodo famigerato durante la rivoluzione francese dal 5 settembre 1793 al 28 luglio 1794, ha profondamente modellato l'ascesa e il governo di Napoleone Bonaparte. Quest'epoca, segnata da turbolenze politiche radicali e dall'efficienza lugubre della Ghigliottina, vide l'esecuzione di circa 16.000 a 40.000 persone, inclusi il re Luigi XVI e la regina Maria Antonietta. Fu sotto l'ombra di questa Ghigliottina, simbolo infame della giustizia rivoluzionaria, che Napoleone affinò la sua comprensione del potere e della politica. Durante il terrore, il Comitato di Salute Pubblica, guidato da figure come Massimiliano Robespierre, Georges Danton e Jean-Paul Marat, esercitava un potere quasi assoluto. Il loro governo, alimentato dalla paranoia e dal desiderio di proteggere la rivoluzione dai suoi nemici, portò a purghe diffuse. Le strade di Parigi e di altre città erano scenari di costante paura, poiché la Ghigliottina reclamava vittima dopo vittima, inclusi personaggi notevoli come i Girondini e Olympe de Gouges, una prominente femminista. Napoleone, osservando questo tumulto come giovane generale, ha prese lezioni cruciali sulla leadership in tempi di crisi. La sua dichiarazione «La rivoluzione è finita, io sono la rivoluzione», riflette la sua convinzione nella necessità di una figura centrale forte per garantire la sopravvivenza e il successo degli ideali rivoluzionari. Questa convinzione guidò le sue azioni quando prese il potere, enfatizzando stabilità e ordine, elementi cruciali che riteneva mancassero durante il terrore. L'apprezzamento di Napoleone per il sentimento pubblico, una lezione vitale dal terrore, era evidente nel suo uso della propaganda. Riconosceva, come aveva fatto Robespierre, il potere dell'immagine e della retorica nel persuadere l'opinione pubblica. Attraverso l'uso strategico dell'arte, dei media e di apparizioni pubbliche accuratamente messe in scena, Napoleone costruì un'immagine di sé come un leader eroico e visionario, un protettore della Francia che continuava la tradizione rivoluzionaria pur restaurando l'ordine. Il frazionismo politico e le purghe dell'era del terrore evidenziarono i pericoli del potere decentrato. In risposta, Napoleone centralizzò notevolmente l'autorità assumendo il potere. Stabilendo il consolato e poi l'impero, smantellò le strutture politiche che avevano alimentato il caotico frazionismo della rivoluzione. Questa mossa verso la centralizzazione fu una reazione diretta all'instabilità politica che aveva osservato. Le innovazioni militari del terrore, in particolare la leva di massa, non sfuggirono a Napoleone. Questa politica di coscrizione di massa iniziata dal governo rivoluzionario aveva creato un esercito potente e patriottico. Napoleone ereditò questo retaggio militare utilizzandolo per formare la spina dorsale del suo grande esercito. Le sue truppe, impregnate di fervore rivoluzionario, erano una forza formidabile nelle sue numerose campagne militari. Il modo in cui Napoleone gestiva il dissenso e l'opposizione portava anche l'impronta della spietatezza del terrore. Sebbene non ricorresse alle esecuzioni di massa dei suoi predecessori, il suo regime fu caratterizzato da un approccio fermo alla ribellione e alla resistenza. Il suo uso della polizia segreta, della censura e di azioni rapide contro le minacce rifletteva la sua determinazione a mantenere il controllo e a prevenire il caos che aveva caratterizzato gli anni del terrore. L'Odissea Egiziana di Napoleone Una storia di conquista, conoscenza e controversia. La campagna egiziana di Napoleone Bonaparte iniziata il 19 maggio 1798 e culminata nel 1801 fu un'audace impresa militare e scientifica. Partendo da Tolone con una flotta di 400 navi e 54.000 uomini inclusi 35.000 soldati Napoleone cercava non solo di interrompere il commercio britannico con l'India ma anche di stabilire l'influenza francese nell'impero ottomano. Il suo sbarco ad Alessandria il primo luglio 1798 segnò l'inizio di una campagna altrettanto innovativa nella scoperta scientifica quanto nell'ambizione militare. Accompagnava Napoleone un eccezionale gruppo di oltre 160 studiosi e scienziati formando la Commissione delle Scienze e delle Arti. Questo variegato gruppo intraprese uno studio estensivo della vasta storia e dell'ambiente naturale dell'Egitto gettando le basi per l'Egittologia moderna. La scoperta della pietra di Rosetta nel 1799 dal soldato francese Pierre-François Bouchard fu un momento fondamentale fornendo la chiave per decifrare gli antichi geroglifici egiziani. Il loro lavoro compilato nella monumentale Description de l'Egypte pubblicata tra il 1809 e il 1828 fu un contributo monumentale alla conoscenza umana. Tuttavia, la campagna militare affrontò sfide significative. La battaglia delle Piramidi una notevole vittoria per Napoleone il 21 luglio 1798 dimostrò la sua abilità militare ma sottolineò anche le difficoltà logistiche di operare in Egitto. La distruzione della flotta francese nella battaglia del Nilo da parte dell'ammiraglio Horacio Nelson il primo agosto 1798 fu un duro colpo lasciando effettivamente l'esercito di Napoleone bloccato. Questa sconfitta evidenziò la vulnerabilità strategica delle campagne oltremare e l'importanza del potere navale una lezione che Napoleone avrebbe portato avanti. L'assedio di Giaffa condotto dal 3 al 7 marzo 1799 è tristemente ricordato per il massacro di Giaffa. Dopo la cattura della città Napoleone ordinò l'esecuzione di oltre 2000 prigionieri ottomani una decisione fortemente criticata e dibattuta. Alcuni resoconti in particolare dal dipinto di Antoine Jean Gros Bonaparte Visiting the Plague Victims of Giaffa suggeriscono che Napoleone entrò anche in un ospedale della peste una scena progettata per ritrarlo come un leader compassionevole anche se ciò contrasta nettamente con la brutalità del massacro. Nonostante i suoi insuccessi militari la campagna egiziana influenzò significativamente la cultura europea accendendo una fascinazione per l'egittologia. Gli stili architettonici e artistici ispirati da questa egittomania erano evidenti in varie città europee. I risultati scientifici della campagna specialmente nella description dell'Egipt ebbero un profondo impatto sulla comprensione dell'antico Egitto contribuendo significativamente a campi come l'archeologia e l'antropologia. La leadership di Napoleone in Egitto mise in mostra i suoi punti di forza e debolezze. La sua leadership ispiratrice e le tattiche innovative erano evidenti ma la campagna espose anche i suoi errori di calcolo riguardo alle sfide logistiche e culturali in terre straniere. Le difficoltà sopportate dalle sue truppe dalle malattie come la peste al clima estremo sottolinearono le dure realtà delle campagne militari prolungate in territori sconosciuti. Il pugno di ferro di Napoleone disciplina e dissenso nell'impero Napoleone Bonaparte venerato per il suo genio militare mantenne un rigoroso regime di disciplina e controllo sia all'interno del suo esercito che nel trattamento dei suoi avversari politici. Il suo regno sebbene contrassegnato da notevoli realizzazioni militari e amministrative fu caratterizzato anche da una disciplina rigorosa e un trattamento severo del dissenso strumentali nella consolidazione e mantenimento del suo potere. Napoleone è spesso citato per aver detto il campo di battaglia è una scena di caos costante il vincitore sarà colui che controlla quel caos sia il proprio che quello dei nemici. All'interno delle file della grande armata la disciplina era rigorosa e spesso brutale. Il codice militare di Napoleone profondamente influenzato dalla necessità di ordine ed efficienza imponeva severe punizioni per diserzione insubordinazione e altre violazioni della condotta militare. La diserzione un problema comune date le estese e faticose campagne era particolarmente severamente punita. I disertori quando catturati affrontavano la corte marziale e l'esecuzione tramite plotone ed esecuzione un destino che colpì migliaia di persone durante le sue campagne. Per reati minori come insubordinazione o furto la flagellazione o i lavori forzati erano sentenze comuni. Questa dura disciplina militare era riassunta nelle parole dello stesso Napoleone. Ogni soldato porta un bastone da maresciallo nel suo zaino sottolineando le ricompense per la lealtà e le conseguenze per il dissenso. Il trattamento di Napoleone nei confronti dei suoi rivali politici era altrettanto duro. La sua ascesa al potere dopo la rivoluzione francese lo vide confrontarsi con un paesaggio politico profondamente diviso e turbolento. Per consolidare il suo potere impiegò una serie di tattiche per neutralizzare i suoi avversari. L'imprigionamento e l'esilio erano strumenti comuni nel suo arsenale contro coloro che si opponevano o minacciavano il suo governo. Tra i suoi avversari politici notevoli vi era il duca di Enghien membro della famiglia reale dei Borboni. Accusato di cospirare contro il regime il duca fu arrestato processato rapidamente ed eseguito nel 1804 una mossa che attirò una vasta condanna ed è stata vista come un esempio eclatante della spietatezza di Napoleone. Un altro esempio del suo trattamento dei nemici politici fu il suo approccio alla presunta cospirazione di Georges Cadoudal e Jean-Charles Pichégru entrambi strenui oppositori di Napoleone. La cospirazione scoperta nel 1804 portò all'arresto e all'esecuzione di Cadoudal e alla misteriosa morte di Pichégru in prigione ritenuta da alcuni un omicidio orchestrato dalla polizia segreta di Napoleone. Sotto Napoleone il controllo dello Stato si è stese nel regno delle idee e dell'opinione pubblica l'istituzione di una vasta rete di sorveglianza e censura supervisionata dal suo ministro della polizia Joseph Fouché fu fondamentale nella soppressione dell'opposizione. I giornali erano censurati e le pubblicazioni critiche del regime erano vietate. Questa rete non solo individuava cospirazioni politiche ma creava anche un'atmosfera di paura e conformità. L'approccio di Napoleone al dissenso si è stese oltre l'elite politica alla popolazione generale specialmente nei territori sotto il suo controllo. Il suo trattamento della ribellione in Spagna ne è un esempio dove la risposta delle forze francesi alla rivolta di Madrid nel maggio 1808 fu contrassegnata dalla brutalità. La repressione della rivolta spagnola descritta in modo inquietante nel dipinto di Francisco Goya il 3 maggio 1808 fu un presagio della guerra selvaggia che caratterizzò la guerra peninsulare. Il codice napoleonico un doppio eredità di riforma e restrizione. Il codice napoleonico ufficialmente noto come codice civile dei francesi promulgato il 21 marzo 1804 rappresenta una delle riforme legali più significative della storia moderna. Creato sotto gli auspici dell'imperatore Napoleone Bonaparte questo corpo completo di diritto civile ha modernizzato e unificato il diritto francese influenzando sistemi legali in tutto il mondo. Tuttavia i suoi passi progressisti furono contrapposti con un rafforzamento delle strutture patriarcali e una limitazione di alcune libertà individuali riflettendo il complesso panorama socio-politico della Francia napoleonica. Napoleone un governante pragmatico comprese la necessità di un quadro legale stabile per consolidare i guadagni della rivoluzione francese e garantire l'ordine sociale. Il caos del periodo rivoluzionario con i suoi innumerevoli sistemi legali e l'abolizione dei privilegi feudali necessitava una nuova struttura legale coesiva. Il codice napoleonico fu un imponente sforzo in questa direzione incarnando principi dell'illuminismo come l'uguaglianza davanti alla legge e la sacralità della proprietà privata. Aboli i privilegi basati sulla nascita stabilì un sistema giudiziario basato sul merito e semplificò il sistema legale rendendo le leggi chiare e accessibili. nonostante questi progressi il codice aveva un lato oscuro in particolare nel trattamento delle donne e della struttura familiare. Consolidò fermamente l'autorità maschile all'interno della famiglia dando agli uomini un ampio controllo sulle loro mogli. Ad esempio sebbene il divorzio fosse reso più accessibile rispetto all'era pre-rivoluzionaria era ancora fortemente sbilanciato a favore degli uomini. Le donne avevano bisogno del consenso del marito per le transazioni legali ed erano limitate nei loro diritti di possedere e gestire proprietà. Questa inclinazione patriarcale rifletteva le opinioni stesse di Napoleone sui ruoli di genere. È famoso per aver detto la natura ha fatto della donna la nostra schiava. La sua missione propria e naturale è di essere moglie e madre. Inoltre l'impatto del codice sulle libertà personali era ambiguo. Sebbene promuovesse i diritti individuali in alcune aree limitava anche le libertà in altre. Ad esempio rafforzava l'autorità dei datori di lavoro sui lavoratori e limitava i diritti dei lavoratori una mossa vista come una concessione aghi gli interessi industriali emergenti in Francia. Limitava anche alcune libertà civili come la libertà di parola e di stampa riflettendo le tendenze più autoritarie di Napoleone. L'influenza del codice si estese ben oltre i confini della Francia. Servì come modello per sistemi legali in molti paesi europei così come in Louisiana negli Stati Uniti. In paesi come Italia Paesi Bassi Belgio Spagna e Portogallo furono adottate versioni del codice diffondendo i suoi principi e anche i suoi difetti attraverso i continenti. Questa vasta adozione sottolineò la sua importanza come pietra angolare del diritto civile moderno ma diffuse anche i suoi elementi patriarcali e autoritari. La stesura del codice napoleonico coinvolse diversi studiosi di legge il più notevole dei quali fu Jean-Jacques Regis de Cambaceres che ebbe un ruolo fondamentale nella sua formulazione. Il processo di stesura e discussione del codice fu esaustivo con oltre 14.000 lettere di corrispondenza tra Napoleone e il suo team legale riflettendo la meticolosa cura impiegata nella sua creazione. il sistema continentale l'ambizioso blocco economico di Napoleone e le sue ripercussioni sull'Europa. In un audace tentativo di minare la supremazia navale della Gran Bretagna Napoleone Bonaparte iniziò il sistema continentale nel novembre 1806. Questo blocco economico mirato a strangolare il commercio britannico proibendo alle nazioni europee di interagire con esso segnò una nuova fase nelle guerre napoleoniche. Il decreto di Berlino del 21 novembre 1806 annunciò formalmente il blocco che fu intensificato dal decreto di Milano nel dicembre 1807. Questi decreti cercavano di indebolire la Gran Bretagna la cui economia era fortemente dipendente dal commercio in particolare con il continente europeo. L'impatto del sistema continentale fu immediatamente avvertito in tutta Europa. La Gran Bretagna vide un drammatico declino delle esportazioni con una riduzione del 55% verso l'Europa entro il 1808. Le industrie tessili di Manchester e Leeds fortemente dipendenti dai mercati europei sperimentarono significativi cali. Tuttavia questa guerra economica presto rivelò la sua natura a doppio taglio. Città portuali come Hamburgo e Brema centri tradizionali di commercio affrontarono gravi difficoltà economiche. Il blocco interruppe il flusso di merci come grano legname e canapa essenziali per le industrie navali e commerciali. L'economia francese nonostante fosse l'artefice del blocco non fu immune ai suoi effetti. I commercianti francesi in particolare nel settore tessile lottarono con la scarsità di materie prime come il cotone che era principalmente importato dalle colonie britanniche. il prezzo di zucchero caffè e tabacco schizzò alle stelle portando a un diffuso malcontento. Il contrabbando divenne una risposta diffusa con le aree costiere di Spagna e Portogallo che divennero focolai per il commercio illecito. I beni britannici continuarono a filtrare in Europa spesso a prezzi gonfiati minando l'efficacia del blocco. Gli alleati di Napoleone costretti a conformarsi al sistema continentale iniziarono a risentire del suo tributo economico. La Russia un alleato chiave fu particolarmente colpita a causa della sua dipendenza dal commercio con la Gran Bretagna. La crescente frustrazione dello zar fu un fattore significativo che portò alla campagna russa del 1812 un'avventura disastrosa per Napoleone. In Spagna e Portogallo la tensione economica esacerbò i sentimenti antifrancesi alimentando la guerra peninsulare un conflitto logorante che erose il potere francese in Europa. L'impatto sociale del sistema continentale fu profondo. La scarsità di beni portò all'inflazione causando difficoltà soprattutto tra le classi inferiori. Questa angoscia economica combinata con il crescente nazionalismo contribuì ad aumentare l'opposizione al dominio francese in tutta Europa. In Italia ad esempio il blocco colpì duramente le industrie e l'agricoltura locali portando ad un aumento della povertà e del malcontento. Ironia della sorte il sistema inteso a indebolire la Gran Bretagna alla fine causò maggiori danni all'Europa continentale. La Gran Bretagna adattandosi rapidamente espandeva il suo commercio con le Americhe e l'Oriente riducendo l'impatto del blocco. Al contrario la dipendenza dell'Europa dal commercio marittimo significava che le rotte alternative terrestri erano insufficienti a compensare la perdita del commercio marittimo. La guerra peninsulare una saga di resistenza e repressione francese. La guerra peninsulare un conflitto prolungato e brutale dal 1807 al 1814 fu un capitolo fondamentale nelle guerre napoleoniche caratterizzato da intensa guerriglia e atrocità francesi in Spagna e Portogallo. Iniziò con il trattato di Fontainebleau nel 1807 dove Napoleone e il primo ministro spagnolo Manuel Godoy concordarono di dividere il Portogallo l'ultimo alleato britannico in Europa tra Francia Spagna e lo stesso Godoy. Questo accordo segreto preparò il terreno per l'invasione francese del Portogallo e successivamente della Spagna scatenando una rivolta diffusa contro il dominio napoleonico. Nel 1808 le forze francesi sotto il generale Junot occuparono il Portogallo con poca resistenza. Tuttavia la situazione in Spagna rapidamente peggiorò per i francesi. L'abdicazione del re Carlo IV e di suo figlio Ferdinando VII e la successiva installazione del fratello di Napoleone Giuseppe Bonaparte come re incitarono una vasta opposizione. La rivolta spagnola iniziò seriamente il 2 maggio 1808 un giorno segnato da violenti scontri e immortalato dal pittore Francisco Goya nel suo lavoro il 2 maggio 1808. La natura del conflitto fu marcatamente diversa da altre guerre napoleoniche. Le forze spagnole e portoghesi aiutate dai britannici sotto Sir Arthur Wellesley poi il duca di Wellington si impegnarono in una guerriglia protratta un termine che ha origine da questo conflitto. Il termine guerriglia che significa piccola guerra in spagnolo era appropriato per le tattiche mordi e fuggi impiegate dai partigiani spagnoli. Queste forze irregolari operando in piccoli gruppi disturbavano notevolmente le linee di rifornimento e le comunicazioni francesi costringendo i francesi in una guerra di logoramento estenuante. La risposta francese alla guerriglia fu dura e spesso brutale. Sotto comandanti come il maresciallo Sault e il maresciallo Massena le truppe francesi commisero numerose atrocità contro i civili inclusi saccheggi atti di violenza contro le donne e esecuzioni. L'assedio di Saragozza nel 1808 e 1809 esemplificò questa brutalità. La città sotto il comando del generale José de Palafox resistette estrenuamente subendo massicce perdite civili e distruzione diffusa. Le azioni francesi in Spagna inclusa l'esecuzione di patrioti spagnoli e il bombardamento di aree e civili intensificarono il sentimento antifrancese e galvanizzarono la resistenza. La guerra peninsulare fu anche significativa per il coinvolgimento militare britannico. L'esercito britannico guidato da Wellesley fornì un supporto cruciale alle forze spagnole e portoghesi. Battaglie chiave come la battaglia di Talavera nel 1809 e la battaglia di Salamanca nel 1812 segnarono grandi vittorie per le forze alleate e migliorarono la reputazione di Wellesley come tattico militare. La guerra mise a dura prova le risorse di Napoleone. Entro il 1810 oltre 300.000 truppe francesi erano impegnate nella penisola una significativa deviazione dalle campagne di Napoleone altrove in Europa. Il drenaggio di uomini e risorse unito alle crescenti perdite indebolì la presa di Napoleone sul suo impero. Nel 1812 un punto di svolta arrivò con la sconfitta francese nella battaglia di Salamanca. Questa vittoria per Wellington portò alla liberazione di Madrid e segnò un cambio nel momento della guerra. Le successive vittorie degli alleati culminando nella battaglia di Vittoria nel 1813 costrinsero Giuseppe Bonaparte a fuggire dalla Spagna ponendo effettivamente fine al controllo francese sulla penisola. La catastrofe russa di Napoleone Un inverno di disperazione l'invasione della Russia nel 1812 da parte di Napoleone Bonaparte si pone come una delle campagne militari più catastrofiche della storia segnata da miscalcoli strategici un inverno brutale e un'enorme perdita di vite umane. Conosciuta come la campagna russa fu iniziata da Napoleone per costringere lo zar Alessandro primo di Russia a rientrare nel blocco contro la Gran Bretagna il sistema continentale tuttavia la campagna si evolse in una tragica saga di tracotanza militare e sofferenza umana la grande armée di Napoleone una delle più grandi mai assemblate attraversò il fiume Nemunas in Russia il 24 giugno 1812 questa formidabile forza che contava oltre 600.000 uomini proveniva da varie parti dell'impero napoleonico inclusi Polonia Germania e Italia la fase iniziale della campagna vide alcuni successi con l'esercito francese che catturò Vilnius e si spinse più a fondo nel territorio russo tuttavia l'esercito russo guidato dal generale Michael Kutuzov evitò scontri su larga scala ritirandosi ulteriormente in Russia e attuando una politica della terra bruciata lasciando nulla dietro per l'esercito invasore man mano che Napoleone avanzava le sfide logistiche si moltiplicavano le linee di rifornimento si estendevano sottili attraverso l'immenso spazio russo e la tattica della terra bruciata lasciava i francesi senza risorse locali il primo importante scontro a Smolensk nell'agosto 1812 sebbene una vittoria tattica per Napoleone non portò al risultato decisivo che egli sperava i russi si ritirarono ulteriormente attirando Napoleone più a fondo in territorio ostile la battaglia di Borodino il 7 settembre 1812 fu l'azione di un singolo giorno più grande e sanguinosa delle guerre napoleoniche sebbene abbia portato a una stretta vittoria francese non produsse il colpo decisivo che Napoleone cercava entrambi gli eserciti subirono pesanti perdite con i francesi che persero circa 30.000 uomini e i russi circa 45.000 nonostante questa vittoria costosa Napoleone continuò la sua avanzata entrando a Mosca il 14 settembre solo per trovare la città abbandonata e incendiata l'incendio di Mosca un colpo psicologico e logistico significativo per i francesi segnò il punto di svolta della campagna con l'inverno in arrivo e nessun segno di capitolazione russa Napoleone fu costretto a prendere una decisione fatale il 19 ottobre ordinò alla grande armée di iniziare la sua ritirata da Mosca la ritirata si trasformò in un incubo per l'esercito francese l'aspro inverno russo con temperature che scendevano fino a meno 30 gradi celsius ebbe un impatto devastante sui soldati impreparati fame malattie ed esposizione causarono la morte di migliaia di vite l'attraversamento del fiume Berezina a fine novembre fu particolarmente catastrofico con molti soldati che annegarono o furono uccisi dai russi mentre cercavano di sfuggire il bilancio della campagna russa fu sconcertante dei oltre 600.000 uomini che marciarono in Russia solo circa 100.000 ritornarono la grande armée fu decimata con i suoi sopravvissuti che affrontavano gravi cicatrici fisiche e psicologiche anche la popolazione contadina russa soffrì immensamente con innumerevoli villaggi distrutti e vite perse nel corso del conflitto la campagna russa di Napoleone è spesso citata come un classico esempio di eccesso militare e dell'importanza della logistica e del clima nella guerra il disastro indebolì notevolmente l'esercito di Napoleone portando a un cambiamento nell'equilibrio dei poteri in Europa il fallimento della campagna fu un punto di svolta nelle guerre napoleoniche preparando il terreno per le successive vittorie della coalizione che avrebbero alla fine portato alla caduta di Napoleone la complessa danza di Napoleone tra amore e potere le relazioni di Napoleone Bonaparte con le donne erano tanto intricate e strategiche quanto le sue campagne militari il suo primo matrimonio con Giuseppina di Beauharnais una vedova con due figli iniziò con una romantica passione si sposarono il 9 marzo 1790 solo giorni prima che Napoleone partisse per comandare l'esercito francese in Italia la loro corrispondenza durante questo periodo è piena di effusioni appassionate con Napoleone che spesso scriveva intense lettere d'amore tuttavia il matrimonio fu travagliato afflitto dalle abitudini di spesa e dalle infedeltà di Giuseppina e dalle proprie relazioni extraconiugali di Napoleone l'incapacità di Giuseppina di fornire un erede fu un fattore cruciale che portò al loro divorzio nel 1809 una decisione che Napoleone descrisse come una necessità per la Francia il secondo matrimonio di Napoleone con Maria Luisa arciduchessa d'Austria il primo aprile 1810 fu una significativa mossa politica intesa a consolidare il suo impero Maria Luisa 18 anni al momento del loro matrimonio era membro della dinastia degli Asburgo una delle famiglie reali più potenti d'Europa diede a lui un figlio Napoleone Francesco Giuseppe Carlo Bonaparte il 20 marzo 1811 a cui fu dato il titolo di re di Roma nonostante la natura politica del matrimonio la loro corrispondenza suggerisce uno sviluppo di affetto reciproco oltre ai suoi matrimoni le avventure romantiche di Napoleone furono numerose la sua relazione con Maria Valevska una nobildonna polacca portò alla nascita di un figlio Alessandro Valevski nel 1810 questa relazione come molte altre fu colorata dal potere e dallo status di Napoleone Maria era inizialmente riluttante ma fu persuasa a coinvolgersi con Napoleone per motivi politici in particolare per cercare favori per la Polonia le opinioni di Napoleone sulle donne come riflesse nelle sue affermazioni e politiche rivelano una posizione complessa sebbene esprimesse ammirazione per le capacità di certe donne le sue politiche spesso limitavano i diritti delle donne il codice napoleonico ad esempio ridusse lo status legale delle donne a minori sotto la tutela dei loro mariti o padri le opinioni personali di Napoleone erano spesso contraddittorie una volta commentò le donne non sono altro che macchine per produrre bambini queste relazioni e visioni evidenziano un uomo per cui le ambizioni romantiche e politiche erano spesso intrecciate i suoi matrimoni servivano alle sue aspirazioni imperiali mentre le sue relazioni fornivano soddisfazione personale e a volte leva politica questa miscela di desiderio personale e pianificazione strategica era emblematica dell'approccio di Napoleone sia alla vita privata che a quella pubblica padroneggiare l'arte della percezione l'impero mediatico di Napoleone Napoleone Bonaparte una figura tanto abile sul campo di battaglia quanto nell'arena dell'opinione pubblica sfruttò i media e l'arte per scolpire la sua immagine e consolidare il suo potere riconoscendo presto l'influenza della nascente stampa implementò controlli rigorosi entro il 1810 aveva ridotto il numero di giornali a Parigi a soltanto 4 tutti sotto stretto controllo governativo questa mossa rifletteva la sua convinzione nel potere della stampa riassunta nella sua citazione 4 giornali ostili sono più da temere di mille baionette nel campo dell'arte Napoleone fu un mecenate per eccellenza arruolò artisti come Jacques Louis David rinomato per il suo stile neoclassico per ritrarlo come una figura eroica e quasi divina il Napoleone che attraversa le Alpi 1801 di David è un esempio primo raffigurante Napoleone che guida eroicamente il suo esercito attraverso il passo del Gran San Bernardo nel 1800 un altro capolavoro l'incoronazione di Napoleone 1807 immortalava la sua incoronazione nella cattedrale di Notre Dame enfatizzando il suo controllo sugli affari religiosi e di Stato l'influenza di Napoleone si estendeva alla trasformazione architettonica di Parigi l'arco di trionfo commissionato dopo la sua vittoria nella battaglia di Austerlitz nel 1885 fu progettato da Jean Chalgren questo grande monumento intendeva celebrare i trionfi dell'esercito francese ed era finemente adornato con rilievi e iscrizioni che commemoravano le imprese militari di Napoleone la polizia segreta guidata da Joseph Fouché fu l'esecutore invisibile del regime propagandistico di Napoleone l'ampia rete di spie di Fouché infiltrava vari strati della società assicurando che il dissenso fosse rapidamente identificato e soppresso questa forza di polizia segreta fu uno strumento critico nel mantenere una facciata di supporto unanime alle politiche di Napoleone la censura era rigorosamente applicata sotto il regno di Napoleone la commissione imperiale per la censura esaminava tutte le forme di materiale stampato la letteratura critica nei confronti del regime di Napoleone come gli scritti di François René e de Chateaubriand era spesso bandita costringendo alcuni autori all'esilio queste misure garantivano una narrazione strettamente controllata intorno al regno di Napoleone dove le voci dissidenti erano raramente udite entro i confini della Francia l'educazione non fu risparmiata nella campagna di Napoleone per modellare l'opinione pubblica le scuole e le università erano considerate terreni fertili per la fedeltà all'imperatore i libri di testo glorificavano le sue imprese militari e politiche e il curriculum era attentamente progettato per creare un senso di orgoglio nazionale centrato sulla figura di Napoleone nonostante i suoi sforzi per controllare la narrazione esisteva un'opposizione figure come Chateaubriand sebbene esiliate scrivevano criticamente su Napoleone queste voci dissidenti seppur represse in Francia trovarono un pubblico altrove in Europa offrendo una contro narrazione alla glorificazione onnipresente nella Francia napoleonica la fine epica svelando la battaglia di Waterloo la battaglia di Waterloo un momento cruciale il 18 giugno 1815 segnò la fine della celebre carriera militare di Napoleone Bonaparte e del suo dominio sulla Francia questa battaglia vicino al villaggio belga di Waterloo vide l'esercito francese di Napoleone scontrarsi con le forze della settima coalizione guidate dal duca di Wellington e dal maresciallo di campo prussiano Gebhard Leberecht von Blücher Napoleone ritornato dal suo esilio a Elba cercò una rapida vittoria per ristabilire il suo controllo sull'Europa l'esercito francese forte di circa 73.000 uomini fu contrapposto ai circa 68.000 soldati di Wellington e ai 45.000 soldati prussiani di Blücher il piano di Napoleone si basava sulla separazione di queste forze alleate ma una serie di disavventure e errori strategici sigillarono il suo destino la battaglia iniziò con le condizioni del campo di battaglia che giocarono un ruolo cruciale le forti piogge della notte precedente risultarono in un terreno fangoso e difficile ritardando l'assalto iniziale pianificato da Napoleone questo ritardo si rivelò costoso permettendo ai prussiani precedentemente sconfitti nella battaglia di Ligny di riorganizzarsi e unirsi a Wellington il duca di Wellington un astuto leader militare fortificò le sue truppe lungo una cresta sfruttando il terreno a suo vantaggio la sua forza multinazionale inclusi soldati britannici olandesi belgi e tedeschi dimostrò notevole tenacia di fronte ai feroci assalti di artiglieria e fanteria francesi la strategia difensiva di Wellington fu in seguito sintetizzata nella sua famosa frase arrivarono nel solito vecchio modo e li sconfiggemmo nel solito vecchio modo un momento cruciale fu il malgiudizio di uno dei comandanti più fidati di Napoleone il maresciallo Michel Ney la carica prematura di cavalleria di Ney contro i quadrati di fanteria britannica sebbene valorosa fu mal supportata e respinta causando significative perdite francesi questa decisione insieme al ritardo iniziale di Napoleone contribuì in modo significativo alla sconfitta francese i prussiani sotto Blücher arrivarono sul campo di battaglia nel tardo pomeriggio fornendo rinforzi cruciali alle forze di Wellington l'impegno di battaglia contro Napoleone un fattore che l'imperatore francese aveva fatalmente sottovalutato in una mossa disperata Napoleone schierò la sua elite della guardia imperiale storicamente le sue truppe più affidabili nelle fasi finali della battaglia il respingimento e il successivo ritiro della guardia simboleggiarono il completo crollo del morale e dell'efficacia dell'esercito francese le conseguenze di Waterloo furono devastanti per i quasi 25.000 furono uccisi o feriti e migliaia furono catturati le forze della coalizione subirono circa 22.000 perdite questo alto costo testimoniò la ferocia della battaglia la sconfitta di Napoleone a Waterloo pose fine al suo dominio in Francia abdicò quattro giorni dopo il 22 giugno 1815 e fu esiliato nell'isola remota di Sant'Elena nell'Atlantico meridionale dove trascorse i suoi ultimi anni Waterloo concluse efficacemente la serie di conflitti noti come le guerre napoleoniche che avevano rimodellato il continente europeo l'enigma della fine di Napoleone Sant'Elena e oltre gli ultimi anni di Napoleone Bonaparte sull'isola ventosa di Sant'Elena lontano dai campi di battaglia d'Europa che avevano assistito alla sua ascesa e caduta furono segnati da malattia e controversie esiliato dopo la sua sconfitta a Waterloo nel 1815 Napoleone fu confinato a Longwood House in questa isola isolata un netto contrasto rispetto alla grandezza che un tempo conosceva la sua morte il 5 maggio 1821 è stata da allora avvolta nel mistero con teorie che vanno dalla malattia naturale all'omicidio premeditato il suo esilio a Sant'Elena iniziato nell'ottobre 1815 fu un periodo di netto declino risiedeva a Longwood House una dimora umida e scomoda afflitta da condizioni difficili governato da Sir Hudson Lowe che manteneva una stretta sorveglianza su Napoleone il loro rapporto era carico di tensione e sfiducia la salute di Napoleone iniziò a peggiorare intorno al 1817 mostrando sintomi come dolore addominale e grave perdita di peso che portarono i suoi medici a sospettare un cancro allo stomaco il male che aveva reclamato suo padre Carlo Bonaparte nel 1785 l'intrigo che circonda la sua morte fu alimentato nel ventesimo secolo dalla scoperta di alti livelli di arsenico nei campioni di capelli di Napoleone questa rivelazione resa pubblica nel 1961 ha dato origine a teorie di avvelenamento alcuni storici hanno ipotizzato che i britannici diffidenti di qualsiasi tentativo da parte di Napoleone di riconquistare il potere potrebbero aver orchestrato la sua lenta fine altri suggerirono un colpevole più vicino a casa forse all'interno del suo stesso seguito tuttavia la presenza di arsenico non è una prova definitiva di gioco sporco l'arsenico era un elemento comune in vari prodotti durante il XIX secolo era spesso usato nei pigmenti verdi per le carte da parati e persino trovato in alcuni composti medicinali sollevando la possibilità che l'esposizione ambientale o l'assunzione di medicinali potessero aver contribuito agli alti livelli trovati nei suoi capelli l'autopsia iniziale eseguita dal medico di Napoleone Francesco Anton Marchi indicò il cancro allo stomaco questa diagnosi sembrava plausibile date le sintomi di Napoleone e la storia medica familiare il rapporto dell'autopsia dettagliava un grande ulcera nello stomaco rafforzando la probabilità del cancro gastrico come causa di morte la morte di Napoleone non fu solo una fine ma l'inizio di un nuovo capitolo nel suo retaggio nel 1840 le sue spoglie furono restituite in Francia e tumulate all'Esanvalide a Parigi dove rimangono un luogo di pellegrinaggio e venerazione il mistero che circonda la sua morte ha solo aggiunto al mito di Napoleone una figura tanto avvincente nella morte quanto in vita negli ultimi giorni le parole di Napoleone stesse accennavano a un senso di tradimento e cospirazione si dice che abbia detto muoro prima del mio tempo ucciso dall'oligarchia inglese e dai suoi assassini assoldati che sia nato da una convinzione genuina o dal delirio della malattia queste parole hanno alimentato infinite speculazioni e dibattiti sulla vera natura della sua fine svelare il mito di Napoleone oltre ai complessi e alle pose iconiche Napoleone Bonaparte una figura immersa nella storia e nella leggenda è stato oggetto di numerosi miti e malintesi tra i più famosi ci sono il complesso di Napoleone e la iconica posa della mano nella giacca entrambi hanno permeato la cultura popolare e il discorso storico il complesso di Napoleone è un termine spesso usato per descrivere una presunta condizione in cui le persone basse in particolare gli idii gli uomini hanno un atteggiamento aggressivo e dominante per compensare la loro mancanza di altezza questo concetto è frequentemente collegato a Napoleone a causa della credenza che fosse eccezionalmente basso tuttavia i registri storici smentiscono questo mito Napoleone era in realtà di altezza media per il suo tempo in piedi a circa 5 piedi e 7 pollici 1 metro e 70 il malinteso probabilmente è sorto a causa della differenza tra le unità di misura francesi e britanniche dell'epoca in unità francesi era 5 piedi e 2 pollici che tradotto in misure britanniche corrisponde a 5 piedi e 7 pollici inoltre Napoleone era spesso visto con la sua guardia imperiale che era più alta della media rendendolo forse più basso in confronto un'altra immagine pervasiva è quella di Napoleone con la mano infilata nella sua giacca questa posa presente in molti ritratti e statue ha suscitato varie teorie alcune suggeriscono fosse per alleviare il dolore di un disturbo allo stomaco altre propongono fosse un simbolo della sua audace leadership tuttavia questa posa era una convenzione artistica comune del periodo che denotava un atteggiamento calmo e raccolto non era unica di Napoleone molti leader e figure influenti del tempo erano raffigurati in modo simile questa posa faceva parte dello stile neoclassico simbolizzando autocontrollo e leadership in linea con i valori e l'estetica dell'epoca oltre a questi famosi miti ci sono altri malintesi su Napoleone uno di questi è la convinzione che sia stato responsabile del detto un esercito marcia sul suo stomaco anche se incapsula l'importanza strategica che attribuiva alla logistica e alle linee di approvvigionamento non ci sono prove concrete che Napoleone abbia effettivamente pronunciato queste parole la frase tuttavia riflette accuratamente il suo approccio rivoluzionario al rifornimento militare che è stato un fattore chiave nelle sue numerose vittorie sul campo di battaglia un altro aspetto spesso dibattuto dell'eredità di Napoleone è l'affermazione che avesse avvelenato le sue truppe in Siria nel 1799 per accelerare la loro ritirata questa accusa deriva da resoconti secondo cui durante la campagna siriana in particolare l'assedio di Acri Napoleone ordinò l'avvelenamento dei suoi soldati colpiti dalla peste tuttavia le prove storiche suggeriscono che ciò fosse probabilmente una distorsione della sua decisione di fornire oppio ai soldati gravemente malati una pratica comune all'epoca per alleviare le sofferenze il ruolo di Napoleone nella popolarizzazione del sistema metrico è anche oggetto di malintesi sebbene il sistema metrico sia stato effettivamente introdotto ufficialmente in Francia durante il suo regno il processo è iniziato prima del suo tempo durante la rivoluzione francese il suo contributo è stato nella diffusione del sistema in tutta Europa un prodotto secondario delle sue campagne militari espansive Napoleone dalla storia all'immaginario popolare l'influenza di Napoleone Bonaparte si estende oltre gigliannali della storia nel regno della cultura popolare dove è stato immortalato in varie forme d'arte letteratura cinema e persino videogiochi la sua complessa persona e il significativo impatto storico lo hanno reso un soggetto duraturo di fascino e reinterpretazione nella letteratura la presenza di Napoleone si avverte in una miriade di opere Guerra e pace di Lev Tolstoy pubblicato per la prima volta nel 1869 intreccia intricatamente il racconto della campagna russa di Napoleone del 1812 nella sua narrazione offrendo una profonda esplorazione del suo impatto sulla società e sugli individui I miserabili di Victor Hugo ambientato sullo sfondo della Francia post-napoleonica fa a riferimento alla battaglia di Waterloo e agli effetti residui del suo regno opere biografiche come Napoleone una vita di Andrew Roberts 2014 e Napoleone Bonaparte di Alan Shum 1997 approfondiscono la sua vita e il suo retaggio presentando dettagliati resoconti delle sue strategie militari manovre politiche e vita personale anche il cinema ha abbracciato Napoleone come un personaggio avvincente il film muto Napoleone di Abel Guns 1927 è celebrato per la sua rivoluzionaria cinematografia e la rappresentazione dei primi anni di Napoleone Guerra e pace diretto da King Vidor nel 1956 porta il romanzo di Tolstoi sullo schermo raffigurando l'incrocio drammatico di vite personali e il tumulto delle guerre napoleoniche esplorazioni cinematografiche più recenti come Monsieur N di Antoine de Caen 2000 si addentrano nei misteri che circondano l'esilio e la morte di Napoleone l'immagine di Napoleone nell'arte è dominata dalle opere di Jacques Louis David un fervente sostenitore e pittore ufficiale del regime di Napoleone i suoi dipinti tra cui l'iconico Napoleone che attraversa le Alpi 1801 e l'incoronazione di Napoleone 1807 non solo hanno immortalato l'immagine di Napoleone ma hanno anche servito come potenti strumenti di propaganda queste opere d'arte sono diventate sinonimo dell'epoca di Napoleone catturando sia la grandezza che la complessità del suo regno l'industria dei videogiochi ha anche attinto al retaggio storico di Napoleone Napoleon Total War rilasciato da Creative Assembly nel 2010 permette ai giocatori di partecipare alle sue campagne militari mescolando dettagli storici con gameplay strategico Europa Universalis 4 sviluppato da Paradox Interactive e rilasciato nel 2013 offre ai giocatori la possibilità di navigare le sfide politiche e militari dell'epoca napoleonica gli eventi pubblici e le rievocazioni svolgono un ruolo significativo nel mantenere vivo il retaggio di Napoleone la rievocazione annuale della battaglia di Waterloo in Belgio è un evento importante che attira appassionati da tutto il mondo che indossano dettagliate uniformi del periodo e partecipano a battaglie simulate analogamente l'Esanvalide a Parigi il sito della tomba di Napoleone non è solo una tomba ma un monumento al suo retaggio duraturo attirando migliaia di visitatori ogni anno la rappresentazione di Napoleone nella cultura popolare spesso riflette la dicotomia della sua immagine storica un leader visionario e riformatore per alcuni un conquistatore assetato di potere per altri questa complessità lo rende un soggetto di infinita fascinazione e dibattito non solo negli ambienti accademici ma anche nell'immaginario pubblico più ampio mentre il nostro viaggio attraverso la vita e i tempi di Napoleone Bonaparte si conclude ci lasciamo alle spalle il ritratto di un uomo che era tanto complesso quanto influente dalle sue umili origini in Corsica nel 1699 al suo ultimo respiro sull'isola ventosa di Sant'Elena nel 1821 Napoleone ha ridefinito i contorni del potere e della politica il suo retaggio impresso sui campi di battaglia d'Europa nelle sale amministrative della Francia e nelle pagine della storia continua a evocare ammirazione e controversie la sua storia è quella di brillantezza e sovrabbondanza di fervore rivoluzionario e ambizione imperiale ricordato per il suo genio militare le sue riforme che hanno modernizzato le nazioni e il suo ruolo nella formazione dell'Europa moderna Napoleone rimane una figura imponente nella storia era un uomo che una volta disse la storia è la versione degli eventi passati su cui le persone hanno deciso di concordare riflettendo sulla sua vita vediamo non solo l'uomo che era ma anche la leggenda che è diventato un simbolo duraturo di potere ambizione e le complessità del retaggio storico grazie per averci accompagnato in questa esplorazione di una delle figure più enigmatiche e potenti della storia Napoleone Bonaparte Grazie a tutti